marcello fois è uno scrittore sardo già affermato e apprezzato con parecchi titoli parecchi libri adesso appena pubblicato il suo ultimo romanzo che si intitola pietro e paolo edito da einaudi pietro e paolo è il titolo che evoca vagamente anche gli apostoli pietro e paolo che erano molto diversi tra di loro ma così necessari nella diversità per l'unità dei primissimi cristiani e in effetti pietro e paolo protagonisti di questo romanzo sono due ragazzini sardi all'inizio del novecento molto diversi ma molto uniti da una solidissima tenace amicizia diversi perché sono un po il ricco e il povero addirittura il padrone e il servitore perché paolo è figlio di un padre ricco di un padre padrone che si è arricchito mentre pietro è un ragazzo povero è figlio di un contadino che appartiene in qualche modo lavora come fattore appartiene al padrone e dunque i due però sono amicissimi il ragazzo povero va molto moltissimo in casa di paolo che ha bisogno di questo amico anche perché paolo è di salute delicata paolo studia pietro no quindi paolo nell'infanzia adolescenza rivela i saperi della scienza della cultura ma pietro sa i segreti della natura ancestrale e quindi c'è uno scambio fecondo fra i due c'è questa amicizia solidissima poi arriva la prima guerra mondiale i due ragazzi sono nati nel 1899 giovanissimi e c'è questa ultima generazione di giovanissimi che viene chiamata sul fronte di una guerra che sta per finire terribile la inutile strage la guerra 14 18 e per sorteggio paolo viene coscritto deve partire allora il suo padre padre padrone chiama pietro il padre ha un'influenza sul benessere della famiglia di pietro e anche effettivamente psicologicamente su pietro e gli dice arruolati volontario per stare accanto al mio figliolo vigila veglia su di lui stagli accanto e quindi i due vanno alla guerra poi non racconto cosa succede c'è forse un abbandono c'è forse un tradimento che forse invece non c'è fatto sta che la guerra finisce paolo ritorna a casa con il corpo fortemente segnato e pietro torna non ritorna sbandato forse bandito fa paura lo temono lo ricercano i due non si vedono più però un mattino in un'alba fredda invernale pietro parte nascosto intabarrato fa una lunga camminata nelle campagne nelle montagne per andare a un appuntamento con paolo magari una trappola magari un agguato ma lui deve andare e attraversa questa campagna questa montagna dove con con paolo sono stati felici i ragazzi scoprendo la natura nell'ebbrezza di questa età dell'oro è un romanzo strano che evoca anche due due lo scrittore ha detto sono due grandi temi in questo mio romanzo l'amicizia e la fede l'amicizia si sa si vede e la fede è la fede in qualcosa che se non si sa se c'è bisogna crederci in fondo c'è stato un tradimento fra i due amici no forse sì forse no l'assenza di uno non era forse una presenza non subito avvertita bisogna crederci e si evocano anche i miracoli per esempio Fatima le apparizioni di Fatima che sono coeve proprio alla fine della prima guerra mondiale può essere che sia accaduto davvero può essere che non sia accaduto che ci sia stato anche un chissà una una mistificazione ma se uno ci crede in qualche modo la cosa è come se avvenisse no bisogna metterci la fede quindi c'è questa possibilità che il miracolo stia nel come noi guardiamo al miracolo dell'amicizia delle apparizioni delle cose che contano nella vita dei signi che non sappiamo interpretare che sono misteriosi la qualità di questo romanzo che qualche volta ha qualche immaginazione di troppo ma insomma sta nella nitidezza dello stile dentro questo paesaggio sardo scarno scabro pennellato benissimo fra terra e cielo sotto le nuvole in viaggio e dentro e dentro l'aspra terra della sardegna e poi anche la lievità dello scavo psicologico marcello fois è scrittore forte in questa storia strana allusiva con degli slarghi degli sbocchi che il lettore stesso non sa bene concludere tocca a lui farlo da solo beh tutto questo fa di questo romanzo un notevole interessante forte romanzo